buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video oggi ti andiamo a vedere un altro partitone coi bianchi abbiamo il grande spaschi famosissimo soprattutto di riflesso dato che ha sfidato il grande bobby fisher per cercare di mantenere il proprio titolo mondiale e invece dall'altro lato un giocatore di poco conto si chiama petrosi non mai sentito un altro grande genio andiamo a vedere com'è andata questa partita e4 c5 difesa siciliana cavolo f3 d6 d4 tutte mosse di routine cavolo f6 attaccando questo pedoncino cavolo c3 sviluppo di un pezzo e allo stesso tempo si difende questo pedone a6 abbiamo sempre detto che questi tipo di spinte di pedoni laterali sono talvolta delle perdite di tempo mentre talvolta come nel caso della siciliana è sempre una buona ottima mossa di profilassi per prevenire entrate di cavallo o di alfiere sulla casa importantissima b5 è il turno da del bianco che gioca alfiere g5 l'idea del bianco è quella di togliere i pezzi dell'ala di donna probabilmente prima o poi ci sarà anche donna di 2 con l'idea di arroccare tieni conto che quando si mette l'alfiere in g5 o in b5 o se parliamo del nero in g4 o in b4 bisogna essere anche disposti a cederlo quindi dopo h6 ok il nostro alfiere si può ritirare in h4 ma anche dobbiamo anche essere disposti a cederlo per il cavallo cavallo in bd7 così in caso di cambio su f6 ci sarà un altro bel cavalluccio alfiere c4 guarda spaschi come sviluppa velocemente tutti i propri pezzi abbiamo attualmente quattro pezzi sviluppati contro solo due da parte del bianco il bianco continua con donna 5 è una mossa molto interessante oltre ad inchiodare questo cavallo attacca non a raggi x ma proprio alla luce del sole questo alfiere cosa decide di fare spaschi gioca donna di 2 mossa molto forte perché connette la donna con l'alfiere e allo stesso allo stesso tempo libera il re dalla inchiodatura h6 per scacciare da qui questo alfiere fastidioso e adesso come ti dicevo bisogna essere pronti a dare l'alfiere alfiere per f6 cavallo per f6 ora il bianco all'imbarazzo della scelta a rocco corto o rocco lungo di un pochettino quale ti piacerebbe di più fare e poi ti dico quello che ha fatto spaschi in questa posizione spaschi gioco a rocco lungo l'idea della rocco lungo è quello di essere molto aggressivo la torre si trova già su una buona colonna rispetto alla rocco corto dove la torre si sarebbe trovata su f dove sarebbe servito un'altra mossa per metterla in gioco e 6 mossa assolutamente tranquilla torre in h va in 1 le due torri centrali sono fortissime e ora il nero deve assolutamente riuscire ad arroccare il prima possibile appunto per togliere le proprie orecchie si trova al centro con le torri puntate qui il nero giocò alfiere 7 tal analizzò questa partita e disse che era migliore alfiere d7 e se lo dice tal è assolutamente una garanzia ma alfiere 7 dopo alfiere 7 f4 qui dato che il nero deve ancora arroccare il bianco giustamente cerca di aprire le linee quali in particolare quelle dove c'è le torri il nero però ora rocca e adesso che non è più possibile spingere in modo aggressivo perché c'è il re al centro il bianco che è spaschi decide di fare una mossa interessante ora questo cavallo scusami questo alfiere in c4 si chiama alfiere sospeso poiché non è protetto da nessun pezzo dunque non evitare che il nero in futuro possa guadagnare tempo con d5 spaschi decide di mettere l'alfiere in b3 l'alfiere in b3 ora non è più sospeso e va a proteggere tre pedoni il primo pedone è quello in a2 il secondo pedone in quello c2 e indirettamente difende anche il pedone b2 da attacchi frontali e allo stesso tempo anche da da quelli in diagonale dato perché è impossibile attaccare il pedone b2 dalla casa a3 ok quindi è un'ottima mossa e serve a rafforzare anche la difesa torre 8 da parte del nero re b1 solitamente quando si gioca l'arrocco lungo questa è una mossa di routine serve ancora una volta a consolidare la propria situazione alfiere f8 anche qui mose tranquille da parte del nero e adesso spaschi che ha consolidato la propria situazione ha messo il re al sicuro non teme assolutamente nulla inizia ad aprire le linee come con g4 g4 ovviamente permette la cattura da parte del nero e petrosian non se lo lascia dire due volte cavallo per g4 ora come si continua l'attacco con donna g2 la donna è in una buona colonna attacca direttamente il re e ovviamente attacca il cavallo che deve essere o coperto o ritirato petrosian sceglie per la ritirata in f6 e adesso torre g1 eccoci che si è formata una batteria che punta sul g7 una casa molto importante ma che allo stesso tempo al momento è tenuta dall'alfiere in f8 quindi spaschi dovrà trovare il modo per riuscire comunque ad attaccare alfiere d7 e ora f5 è il momento il momento di cercare di rompere il più possibile e qui petronio un gioco re in h8 che cosa sarebbe caduto per esempio su una spinta su e5 semplicemente qui si sarebbero venuti a creare un bel po di buchi un bel po di buchi e il bianco avrebbe avuto il sopravvento e a seguito della cattura ancora una volta cavallo alfiere pedone e qui la situazione è leggermente in vantaggio per il bianco ora è vero che la donna può catturare su f5 ma è anche vero che adesso le due torri sono molto forti ora l'altra torre una delle due torri può andare su f1 e può andare a creare seri problemi ok torniamo indietro vediamo la partita ok su f5 il nero decide di giocare come abbiamo detto re in h8 e adesso torre in d va in f1 ancora una volta le torri sostengono l'attacco ora c'è un problema da parte del nero il problema è che questa donna è un po fuori gioco e probabilmente dovrebbe tornare in gioco tramite e5 e su un ipotetico cavallo f3 donna in f4 ma qui petrosian trova una manovra troppo lenta e forse neanche corretta che è donna di 8 questa donna ritorna alla sua casa di partenza toglie la comunicazione fra le due torri ed è un po lenta e infatti adesso c'è f per e6 f per e6 si è creato un bellissimo buco su g6 e 5 con l'idea di creare ancora una più pessima struttura pedonale possibile al proprio avversario infatti dopo la cattura la struttura pedonale del nero è veramente veramente tragica e adesso c'è un colpo di genio il colpo di genio di spaschi è cavallo in e4 l'idea di cavallo in e4 è quella di cercare di togliere dei difensori in che modo adesso lo vediamo subito qui il nero giocò cavallo in h5 il cavallo in h5 tiene anche il più possibile il pedone in g7 ma che cosa sarebbe accaduto su cavallo per e4 per esempio semplicemente sacrificio di torri su f8 ora non c'è più nessun pezzo che tiene qui e dopo cattura c'è il matto e se il nero anziché catturare su e4 catturava quest'altro di pedone beh il tema ormai lo conosciamo a memoria è sempre quello sacrificio sul cavallo ora se si cattura di pedone sappiamo già come va a finire perché c'è il matto e ovviamente se si cattura di donna noi possiamo catturare di cavallo e se il nero non fa l'una nell'altra gioca una mossa non so come g5 il pedone h6 controllato dalla torre ci sarebbe semplicemente una mossa molto forte come donna in h3 con attacco doppio su h6 e poche possibilità di sopravvivere per esempio donna e7 cercando di controllare la traversa e ora? e ora qui il bianco può fare tutto quello che vuole può giocare intanto questa poiché il pedone è inchiodato e il compito del nero è totalmente difensivo ma torniamo indietro torniamo indietro alla nostra mossa su cavallo e4 dunque il nero non cattura né in e4 né in d4 ma gioca cavallo in h5 mossa assolutamente interessante donna g6 la migliore casa per la donna dove controlla case importanti e crea anche allo stesso tempo delle minacce importanti petrosian non ha granché da fare perciò gioca e per d4 segue una genialata altra genialata cavallo in g5 si minaccia il matto su h7 la cattura di donna o di pedone meglio di pedone è praticamente obbligata e adesso dopo donna per h5 re g8 come si porta a termine l'azione? ti lascio 10 secondi per vedere come continuare l'attacco la mossa corretta è donna in f7 scacco il re va in h8 in h7 e adesso come si continua? riesci a vederla? dai dai sono sicuro che la stai vedendo torre f3 con l'idea di andare in h3 e c'è veramente veramente poco da fare una delle poche difese è g4 ma su g4 c'è questa e dopo siamo al punto di prima un'altra possibilità ovviamente l'ultima spiaggia è quella di giocare donne in f6 ovviamente qui catturiamo proprio tranquillamente è stata veramente una bellissima partita tra due altre grandi leggende degli scacchi spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto come al solito ti invito a lasciare un like un commento e mi raccomando domani mattina sempre alle ore 8 un nuovo video di scacchi ciao e ora per continuare che cosa posso fare? beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao